E' durata un mese la didattica in presenza nelle scuole superiori marchigiane. Appena il 25 gennaio scorso gli istituti riaprivano le porte e tra l'altro lo facevano solo per ospitare il 50% degli studenti. Domani, sabato 27 febbraio, le richiuderanno. E' questo l'effetto dell'ordinanza regionale firmata oggi dal governatore Francesco Acquaroli che ha disposto la chiusura di tutte le scuole superiori delle Marche fino al 5 marzo con il 100% di didattica a distanza. Nelle province di Ancone e Macerata, le più martoriate dai contagi in quest'ultimo mese, verranno chiuse anche le seconde e terze medie. Restano in presenza le prime medie così come resta garantita la possibilità di svolgere in presenza laboratori e la didattica per studenti con disabilità. Misure restrittive pensate come contrasto ad una situazione contagi preoccupante nonostante il fulcro del problema sia attualmente nella provincia anconetana. Sono infatti 333 le classi scolastiche in quarantena nelle Marche, ovvero il 3,19%, e sono circa 3.400 i ragazzi in quarantena in provincia di Ancona, cioè più dei 3.000 che si contano in tutte le altre province marchigiane. È stato un provvedimento trangugiato a fatica dal comune di Pesaro che proprio poche ore prima dell'ordinanza regionale aveva pubblicato date, luoghi e modalità del suo secondo screening di massa rivolto agli studenti delle superiori della città, aggiungendo questa volta anche i tamponi alle scuole medie. Oltre al danno la beffa per il comune di Pesaro che già aveva ricevuto un altro no dalla regione agli screening studenteschi e ora si vede pure chiudere le scuole quando i tamponi erano un indicatore utile a tenerle aperte. Comune di Pesaro è deciso però a riorganizzarsi tant'è che domani presenterà un piano rivisto di screening conseguente all'ordinanza regionale.